salve amici e bentornati sul canale come vedete c'ho un puntino bianco sulla testa un altro che cos'è neve incredibile ma vero voglio fare questo breve video per farvi capire di quanto il clima stia cambiando la scorsa settimana avevamo fatto questo video sugli innesti degli olivi e appunto parlavamo anche del fatto che da 26 di febbraio e qui non piove ma adesso qui sta nevicando tutto sotto controllo e niente faccio questo breve video anche per far capire alle persone che magari vivono e lavorano in un ufficio non si rendono conto anche di com'è poi la vita fuori da appunto dagli uffici che questo clima che è veramente impazzito fa e porta le persone che lavorano a terra a diciamo avere dei dubbi un po sul futuro di questa attività perché al di là del covi dal di là di tutti i problemi economici che ci sono attualmente in questo momento si hanno tutte le fioriture quindi avendo avuto 30 gradi la scorsa settimana appunto sono venute fuori i ributti delle vigne sono venuti fuori i fiori sono buoni fuori tante cose perché non è solamente l'essere umano che percepisce questo cambio di stagione diciamo repentino ma ci sono anche gli animali le api cioè ragazzi le api sono fondamentali bisogna renderci conto che molta frutta molte verdure che ci sono sui supermercati quando saranno spaventato che continua a nevicare guardate nevischio aprile che magari anni fa poteva essere normale perché c'era una stagione appunto era stabile quindi si aveva una temperatura di 10 15 gradi poi magari andava giù qualche giorno poi tornava a 15 gradi ma adesso ragazzi da 30 gradi a meno uno è un po troppo appunto dicevo le api le api nei supermercati italiani nei supermercati mondiali senza le api un domani a di là dei diserbanti a di là di tutti i prodotti chimici che vengono usati il grosso problema sarà anche questa cosa delle stagioni con questo freddo i fiori si bruciano tutte le fioriture degli alberi da frutto ma anche gli alberi ornamentali come il rosmarino e appunto porta un grande apporto alle api di nutrimento niente io sono un po preoccupato poi magari ci sarà qualcuno di voi che pensa che io sia un pazzo però per me questa cosa non è per niente normale allora come vedete io sto effettuando la pulizia degli olivi che si sono giovane li sto concimando uno a uno mi sto aiutando con la moto zappa ma qui vi voglio far vedere appunto che la vigna è venuta fuori appunto che si sono i ributti di quest'anno ma c'è il rischio che stanotte appunto andando sotto lo zero me li bruci un po il clima e questo non gli fa per niente bene alla pianta anche perché non rispettiamo il ciclo vegetativo come vedete io in questa stagione non trincio perché appunto dovete capire che tutti questi filari di viti si riempiono di questi fiori bianchi che appunto sono pieni colmi di api e di insetti quindi io gli lascio tutto il nutrimento gli lascio tutto il tempo per nutrirsi appunto agli insetti perché anche gli insetti sono fondamentali però appunto per i cicli per tutto ciò che ruota intorno all'agricoltura e alla natura come vedete qui nevica fa anche abbastanza freddo insomma l'essere umano si copre ma anche gli animali vi mettono i panni dei daini dei caprioli tutti gli animali che vivono nel bosco appunto una settimana fa si trovavano con grandi carenze di acqua e ci sono ancora e adesso tutto appunto ci sono appunto meno uno quindi sono 31 gradi di escursione appunto sta nevicando io voglio fare appunto questo breve video solamente magari far vedere un po le persone la situazione anche dell'agricoltura ora io sono abbastanza piccolo mi metto nei panni anche di chi ha grosse coltivazioni e magari ha piantato le patate magari ha messo anche le fave i piselli i baccelli sono piante delle fate appunto appena pigliano una botta di freddo appunto immaginate voi quello che può succedere perché appunto si bruciano è niente ragazzi io vi ringrazio per avermi averci seguito e appunto vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel like per i nostri nuovi video ciao